Leonardo Spinazzola Sono in un buon periodo dove mi riesce quasi tutto quello che provo, quindi sono anche in un buon stato di forma, quindi mi viene tutto più facile. Sei anche modesto, qualità apprezzabile. Vi aspettavate così la Sampdoria? Beh, sinceramente sì, perché sapevamo che la Sampdoria giocava molto bene, che in avanti sono molto molto forti, ha gente di molta qualità e dopo è entrato pure Muriel a dare peso all'attacco, quindi ci aspettavamo tutto questo. 38 punti in classifica? 38 punti, sono molti, ma l'importante era vincere oggi anche vedendo gli altri risultati, il Torino e il Milano hanno perso, la Fiorentina aveva vinto, quindi dovevamo cercare di trovare la vittoria. E adesso? Si pensa già al prossimo impegno? Ci si gode questo successo, prima? Beh, innanzitutto domani riposiamo, poi martedì lavoriamo e pensiamo al Toro.